Affrettatevi, è finalmente arrivato il momento più atteso dell'anno. Solo da Dotolo Mobili ritornano i saldi d'estate, il momento ideale per arredare la propria casa. Innumerevoli prodotti ad un prezzo introvabile, con degli sconti esagerati. Ma il bello è che accostando oggi ad una convenienza unica, la prima rata è nel 2024. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola, Caserta. Ehi papà, tutto ok? Questa volta i conti li abbiamo fatti bene.